Una delibera attesa da 24 anni. Il Consiglio Comunale di Pescara l'ha discussa e approvata oggi in remoto oggetto la riqualificazione di piazza Nildejotti in via di sotto ai colli inserita in un accordo di programma con la GMG che prevedeva la costruzione di 269 alloggi ma come si diceva da tempo accompagnato da un cantiere fantasma che prevedeva appunto la realizzazione della piazza, i parcheggi nella parte sottostante e intorno alle palazzine, una galleria commerciale, aiuole e altre opere di urbanizzazione mai completate. La delibera a posto si spera la parola fine all'annoso problema. I punti di vista del Sindaco Masci e dell'opposizione con il Consigliere Comunale Piero Giampietro. Penso che i cittadini saranno soddisfatti perché vedranno finalmente le opere che aspettavano da tantissimo tempo. Il Comune ha lavorato bene, ha fatto un accordo dove ha tutti i vantaggi perché la piazza sarà realizzata tutta a carico del privato. Una spesa di 850 mila euro quindi un intervento importante e in più in Comune venderà quei box che oggi sono al grezzo e sono inutilizzati a quel privato che li pagherà 300 mila euro che sono il valore effettivo di quei box al grezzo determinato dall'Agenzia delle Entrate. Quindi un ente pubblico e finalmente l'iter sarà completato e potremo mettere la parola fine a un accordo di programma che è stato il primo. Rimane il fatto però Sindaco che ci sono voluti tanti, troppi anni. Perché? Ma perché la burocrazia asfissia ogni possibilità. Però mi piace dire che sono il Sindaco che ha definito questa situazione. Cosa non vi convince di questa operazione? Sono passati 24 anni e il Comune ha scelto di affidarsi alla stessa compagine sociale che appunto 24 anni fa non ha fatto la piazza. Questo ci lascia molto perplessi. Ovviamente l'obiettivo di tutti è che la piazza sia fatta. Noi in questi anni abbiamo fatto tante battaglie in maggioranza e in minoranza perché venissero fatti lavori sulla piazza. Lo strumento scelto da questa amministrazione però ci lascia molto perplessi perché, ripetiamo, ci stiamo appunto affidando agli stessi di 24 anni fa. Stessa domanda che ho fatto al Sindaco Masci. Perché tanto tempo? Tanto tempo perché ci sarà anche un lungo contenzioso e questo ci lascia ancora più perplessi perché ci si affida a una ditta, a una società, a una compagine con la quale il Comune ha avuto un contenzioso. Noi chiediamo che ci sia una garanzia di 20 anni perché il quartiere De Colli per più di 20 anni ha subito un degrado ambientale e deve essere risarcito da una garanzia di 20 anni nella manutenzione a caso del privato.